Convince il pubblico a lasciare un mi piace Raga, sono arrivato fino a qui dalla grotta celeste L'ho dovuto spaccare tutta perché da quel posto non c'è un'uscita Quindi vi giuro che se non lasciate 1500 mi piace poi mi prendo male E sapete come va a finire quando Mewtwo si prende male, vero? Ragazzi, se raggiungiamo 1500 mi piace Potrei farmi trovare senza glitch Sì, lo so che è una cosa assurda, però è una cosa che posso fare Se raggiungi 3500 mi piace, ovviamente Sono il divino, la divinità di questo canale Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento Lascia un commento con scritto hashtag torrecampana Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale Buona visione Nome? Mewtwo Mew Dove vivete? Nella grotta celeste Tristemente, tra l'altro Boh, credo di vivere in giro per i dratti del gioco Molti dicono che io vivi sotto un camioncino Ma non capisco da dove vengono fuori certe leggende strane Raccontate come siete nati Beh, io sono nato in un laboratorio, in una capsula E sì, è stato molto traumatizzante Non credo di essere effettivamente nato Penso più che altro di essere stato creato O almeno penso, perché sinceramente non ricordo Perché siete così diversi? Beh, io non sono un Pokémon naturale Sono stato, come ho detto prima, creato in laboratorio Forse è per questo che il mio carattere è così, diciamo Beh, brutto Io sono l'antenato di ogni Pokémon Quindi sono la natura incarnata in un Pokémon Ecco a cosa è dovuta la mia spensieratezza e la mia giocosità Sono quasi ritratto come un bambino Chi è il più forte tra voi due? Inutile negare che sia io Sono come una sorta di versione potenziata di Mew E implementata dagli umani Quindi direi che non c'è paragone Sulla carta penso sia più forte lui Però insomma è ancora tutto da vedere Andate d'accordo? Bah, più o meno Ogni tanto litighiamo Insomma, non è che il nostro rapporto sia perfetto Però alla fine ci siamo sempre riappacificati Più o meno Sì, abbiamo avuto alcuni litigi, non lo negherò Però ora è tutto a posto Mew Mewtwo È considerabile una tua evoluzione? Non credo in realtà che possa essere considerata una mia evoluzione Perché io naturalmente non mi evolvo in Mewtwo Piuttosto potrebbe essere vista come una sorta di forma alternativa Visto che c'è lo zampino umano nella sua creazione Ma non credo proprio che sia classificabile come mia evoluzione Insomma, non mi evolverai mai in lui Mewtwo Mewtwo Lo ritieni una pre-evoluzione? Forse sì, forse no In realtà non ne sono molto sicuro Sicuramente fa parte in un certo senso di me Diciamo che più che evoluzione Parlerei di trasformazione tra noi due Che cosa ne pensate del Team Rocket? Sono solo un branco di stupidi che tentano di conquistare il mondo Hanno provato a utilizzare anche me Ma gli ho fatto vedere di che pasta sono fatto Penso che siano solo un po' frustrati In realtà non sono persone così cattive dopo tutto Guarda che lo dici solo perché sei ingenuo come un bambino di due mesi Stai zitto per piacere Vi piacerebbe essere un allenatore? Beh, sapete com'è Io lo sono stato Quindi direi di sì È stata un'esperienza interessante Ma ha fatto capire molte cose sulla vita Non saprei Non credo che comandare su altri Pokémon mi farebbe così piacere Però insomma è un'esperienza che sì sarebbe carina da provare insomma Ahimai Partecipato ad un torneo Pokémon Beh, l'ho praticamente indetto Quindi direi assolutamente di sì Sì, ci ho partecipato Un po' clandestinamente Visto che ho praticamente rovinato quello di Mewtwo Però ci ho partecipato Distrutto qualcosa dalla rabbia Eh, qui dovrei fare il conto Ho distrutto il laboratorio Ho distrutto la base del Team Rocket Ho distrutto Ash Ho distrutto tante cose dalla rabbia No, non credo Alla fine sono un tipo abbastanza mite Tentato di assomigliare a qualcun altro per un po' di popolarità Beh, in un certo senso io avrei tentato di assomigliare agli esseri umani Anche se in realtà il mio obiettivo era semplicemente fargli vedere che ero superiore a loro Quindi in realtà non penso che la mia risposta sia affermativa Beh, sapete Io sono l'unico Pokémon insieme al mio clone infame Ditto che sa fare trasformazione Quindi direi assolutamente sì Sarebbe Sarei stupido a non sfruttare sto potere, dai Fumato erba No, mai fumato Le uniche cose che fumavano attorno a me erano gli edifici che distruggevo Penso che ogni tanto sia capitato in qualche incendio di inalare dei fumi provenienti da piante Però, no? Assunto sostanze stupefacenti Oh, gli attacchi X che mi dava al Team Rocket durante le palestre sono considerabili stupefacenti? Le uniche cose stupefacenti sono le domande che ci state facendo Utilizzato Pokémon banditi dai regolamenti Ah, li ho clonati i Pokémon, fate un po' voi Io non ho mai utilizzato Pokémon quindi non so cosa dovrei rispondere a questa domanda E... Non lo abbiamo ancora specificato Chi vi ha creati? Personalmente sono stato creato dal Team Rocket O perlomeno da degli scienziati che pareva fossero in combuta con loro Insomma, non è stata per niente un'esperienza piacevole essere creato da dei criminali Ecco Non so, credo Arceus il dio dei Pokémon Mio, credo di non aver sentito bene Il divino, il dio dei Pokémon Chiaramente Mio tu, perché hai deciso di diventare un allenatore Pokémon? Gli umani mi avevano stancato Mi avevano costantemente sottomesso E io volevo far vedere a loro che un Pokémon poteva essere più forte di loro E poteva distruggerli E se non fosse stato per New e per i suoi discorsi Probabilmente avrei commesso una strage quel giorno Un Pokémon che elimineresti subito dal Pokédex Beh, New a momenti è stato eliminato dai primi giochi Ehi Cosa avete pensato quando Ash è resuscitato nel primo film Pokémon con voi protagonisti? Ho pensato What the fuck? Ho pensato che i sentimenti nel mondo Pokémon sono davvero una cosa bella E sono stato quasi felice Direi commosso Ho versato anche io una lacrimuccia Mio tu, ma tu ti sei pentito di aver fatto quello che hai fatto? In realtà in un certo senso sì Penso di aver peccato d'orgoglio E grazie a Mew sono riuscito a intenderlo Anche grazie ad Ash in realtà Devo ringraziarlo quel ragazzino Prima o poi Appena lo trovo in giro Chissà Mew avresti mai pensato che un tuo fossile potesse produrre un Pokémon così? Sinceramente assolutamente no Non ci ho nemmeno prestato la minima attenzione Però in un certo senso mi fa piacere che comunque da un mio fossile si 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 possa creare qualcosa del genere Insomma è una cosa interessante Balbetto dall'emozione Favorevole o contrario Lotte Pokémon Favorevole Sono abbastanza contrario in realtà Sinceramente preferirei un mondo in cui i Pokémon non si debbano combattere tra di loro Però ormai fa parte della cultura Quindi purtroppo non si potrà far molto per cambiare ciò Esperimenti scientifici sui Pokémon In realtà sotto questo aspetto sono un po' in dubbio Perché io da un certo punto di vista sono stato creato tramite questi esperimenti E ho creato anche altri Pokémon Quindi penso di sì, penso di essere favorevole Però in realtà poi ci ho sofferto quindi non sarei favorevole Insomma un po' di casino ecco Non lo saprà Mi astengo Mi astengo Sono contrario Mi dispiace Mew tu Legalizzazione dei leggendari in competitive Assolutamente favorevole Non è giusto che noi leggendari dobbiamo combattere contro i Pokémon da schifo dell'avventura E in competitive non possiamo misurarci La ritengo una cosa veramente razzista nei nostri confronti anzi Per una volta sono quasi praticamente d'accordo con Mewtwo Non mi piace questa cosa che noi leggendari solo perché saremmo, tra virgolette, più forti Non possiamo partecipare Insomma anche noi vogliamo divertirci un pochino Non mi sembra giusto Quindi sono assolutamente favorevole Matrimoni gay Ma sarei assessuato Quindi l'argomento non è che mi tocchi molto Però favorevole dai Assolutamente favorevole Infatti volevo fare una campagna contro le pensioni Che non accetta le coppie gay nelle pensioni Insomma che ingiustizia Una domanda che tutti si fanno Ma Mew e Mewtwo nel primo film si odiavano? Più che odiarci forse non ci comprendevamo Io e Mew Forse eravamo semplicemente troppo abbagliati In particolare ero abbagliato io Dalle nostre convinzioni E anzi in un certo senso Forse dovrei ringraziarlo Mew Perché senza di lui Probabilmente non sarei quello che sono Cioè un essere in pace con se stesso No non ci odiavamo Volevo semplicemente fargli capire che stava sbagliando E che stava mettendo in pericolo il mondo in cui egli stesso viveva Insomma Mewtwo Svegliati ogni tanto Ehi vuoi cominciare a odiarci adesso? No 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 per piacere dai no Non ricominciamo che poi altrimenti non ne usciamo più Ragazzi tranquilli Scambiatevi un segno di pace Scusami Mew per la mia insolenza No no ci mancherebbe Lo sai che io ci tengo molto a te Ogni tanto sono un po' troppo invasivo E ora che avete fatto pace Salutate il vostro pubblico Ciao a tutti ragazzi vi ringrazio Siete stati magnifici Lasciate un bel mi piace E ricordatevi che se vi avventurate nella grotta celeste E vi fate incazzare Lo prendete in quel posto Ciao raga Vi auguro di trovarmi qualche giorno Non lo so Tramite glitch Io ci sarò per farmi catturare Un saluto E noi ci becchiamo nel prossimo glitch E noi ci sarò per farmi catturare Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti